Tutto quello che era filato liscio nelle ultime settimane per il Forlì è invece andato storto contro il Sud Tirol. Pronti via e Bolzanini in vantaggio grazie a Tulli, abile a deviare alle spalle di Turin sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio arriva al dodicesimo con Fink, sulla cui conclusione a rete è decisiva la deviazione di Camarotto. Forlì che reagisce da par suo, al ventottesimo accorcia Tentoni che infila Marcone sul proprio palo, poi al quarantaduesimo in mani di Brottonier costa caro al Sud Tirol. Calcio di rigore che però Bardelloni spreca inopinatamente. Nella ripresa la chiudecia all'ottantaquattresimo, il gol del definitivo 3-1 per il Sud Tirol. A lungo aveva sperato nel colpaccio il Sant'Arcangelo a Teramo, con Cori bravo a procurarsi un rigore al sedicesimo e a trasformarlo per il vantaggio gialloblu. Clementini perfetti per quasi tutta la partita, salvo poi accusare un calo nel finale pagato a caro prezzo, col fallo ingenuo di Florio su Tempesti che origina il penalty del pari, trasformato da Sansovini. Un 1-1 che serve comunque a smuovere la classifica della squadra di Marcolini.